Musica Ciao a tutti, bentornati nel nostro salone, il salone di Schiatti Class Motorcycle, concessionario ufficiale Triumph per le province di Reggio Emilia, Modena e Parma. Vi abbiamo invitato per andare a conoscere le nuove novità al salone di ECMA, salone motociclo di Milano. Andiamo a vedere cosa ha presentato Triumph. Partiamo con la Tiger 660, l'attesissima, la piccolina, motore tre cilindri con 81 cavalli, colorazioni due rossa, moto che è destinata a fare un buon successo nel settore delle medioturistiche. Vediamo la Speed RR, la nuovissima livrea rossa o bianca creata da Triumph, con un motore 1.2 con 180 cavalli, moto spettacolare, sia esteticamente sia per la componentistica inserita da Triumph. Quindi abbiamo le forcelle semettive, anteriori e posteriori, un bellissimo TFC e un peso che siamo sui 199 kg in ordine di marcia. Adesso, finalmente, siamo di fronte alla vera novità e attesissima dell'anno 2022. La Tiger 1002, che nel settore delle Maxi Adventure è destinata a lasciare il segno. Motore da 150 cavalli, tre cilindri, T-plane, quindi motore a scoppi regolari, una con la ruota di 21 e la ruota di 18 posteriore e una con la ruota di 19 anteriore e la ruota posteriore di 18. La ruota di 21 è una grande novità nel settore delle Maxi Adventure. Ricordiamo che questa moto a breve sarà in concessionaria Schiatti Class Motorcycle per farvi conoscere questo modello e farvelo provare su strada. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo dato un'occhiatina ai nuovi modelli al Salone Ecma. A breve saranno tutti disponibili in concessionaria Schiatti Class Motorcycle, sia per vederle che per provarle su strada. Ricordiamo il concessionario Schiatti Class Motorcycle, il concessionario ufficiale per province di Reggio Modena e Parma, dove vedremo tutti i nostri servizi, dall'assistenza alla vendita al post vendita. Simone vi saluta e vi aspetta per farvi conoscere il nuovo mondo inglese. A presto.